Luigi Formiconi, allenatore della Lazio Nuoto dal trascorso dorato in tutti i sensi che ha l'impegno e l'incarico di portare avanti l'attività agonistica della Lazio Palla Nuoto in un impianto che ormai conosce da un anno e che viene confermato alla società che rappresenta. Io di questo sono felice perché abbiamo fatto un anno proficuo, buono, dove abbiamo lavorato bene, l'impianto è stupendo, forse è uno degli impianti più belli del mondo, io l'ho girato tutto il mondo palanotistico e credo che questo impianto sia veramente al top, quindi sono contento, la squadra rimane in Serie A1, quindi cerchiamo di fare un campionato migliore e qui sicuramente vorrei che fosse veramente la seconda casa della Lazio. Quali vantaggi può dare una squadra che gioca un campionato da 1, un impianto di questo tipo? È importante lavorare dove poi giochi, spesso abbiamo lavorato in impianti e poi giocato in altri, adesso abbiamo la possibilità di viverla completamente e per noi è sicuramente importante.